Dalla maschera veneziana a quella africana, dalla ceramica tradizionale alle opere d'arte della storia, tutto racchiuso in una mostra fatta di pezzi unici realizzati interamente a mano, la mano degli studenti del liceo artistico Basile. Durante le ore di lezione hanno lavorato la carta pesta per creare le loro maschere di carnevale, in esposizione fino a domani presso la libreria Feltrinelli di Via Ghibellina. Fino al giorno 28, che è l'ultimo giorno di carnevale, le maschere sono pure in vendita perché è anche un'occasione per sponsorizzare i nostri laboratori che hanno bisogno di materiale. E quindi anche l'occasione per metterci in mostra e per dimostrare che anche con materiale povero come la carta pesta si possono realizzare dei piccoli capolavori. Grazie a tutti!